Scoprire tutto il fascino del Corallo e del Cammeo, un'occasione per la divulgazione di un vero tesoro della nostra regione. Dal 22 al 28 maggio nelle diverse gioiellerie della provincia di Salerno saranno organizzati una serie di eventi racchiusi nella settimana del Corallo e del Cammeo. L'iniziativa di Feder Preziosi Salerno, in collaborazione con Asso Coral e Comitato Promotore, mira a divulgare un tesoro culturale storico, vanto del Made in Italy, la lavorazione del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco. Una settimana in cui saranno protagonisti. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina a Palazzo di Città dall'assessore al Commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo, dal presidente Feder Preziosi della provincia di Salerno Michele Cicalese e dal presidente Asso Coral Tommaso Mazza. Sono veramente felice perché questa volta Feder Preziosi e Confocommercio ci hanno dato la possibilità di fare un'iniziativa che ha tre cose positive. La prima è quella di dare risalto all'artigianato e all'artigianato campano dove Torre del Greco nella lavorazione del Corallo e del Cammeo come produzione è la prima città al mondo di due beni fondamentali e in questi mesi si stanno candidando per avere una riconoscenza di questi due beni come beni immateriali dell'umanità. Quindi artigiano locale, dopodiché a questo c'è un fattore di stimolo per tutto il commercio, tutte le gioellerie di Salerno e provincia aderenti all'iniziativa avranno delle vetrine a tema che racconteranno la storia e le caratteristiche di questi elementi. Giovedì 25 maggio, come nostro contributo, come amministrazione, abbiamo voluto dare alla possibilità a tutte le scuole, ai cittadini, ai tanti turisti una settimana di una mostra sul tema del Corallo e del Cammeo che si terrà nello splendido scenario di Palazzo Genovesi. Quindi continua l'impegno da parte dell'amministrazione ma dal mio assessorato di far sì che ogni settimana ci possano essere delle iniziative a stimolare il commercio e ad offrire qualcosa non solo ai turisti ma ai concittadini. Grazie a tutti.